L'attesa è terminata, il silenzio pure. Il Cristian Barletta ha fatto irruzione sul mercato del calcio 5 mettendo a segno i primi due movimenti in entrata in vista della seconda partecipazione consecutiva al campionato nazionale di Serie 2. Sono ufficiali infatti gli ingaggi dello spagnolo Diego Rodriguez Fente e del portiere Giuseppe Di Ciaula. Fente è un centrale difensivo galiziano di 24 anni, ancora piuttosto giovane dunque ma già con un curriculum importante in cui c'è molta Serie A. Ha militato nella massima serie nella sua nazione con l'Azgar Lugo, idem in Francia con la maglia del Bastiat. Stesso discorso per il Belgio dove con il Seleclian Thulin ha conquistato sia lo Scudetto che la Coppa Nazionale nell'ultima stagione. Lo spagnolo, buona prestanza fisica abbinata ad una soddisfacente tecnica individuale, si appresta così a vivere la sua prima esperienza in Italia. Arriva dalla Virtus Noi Cattaro e dalla Serie A2 invece il secondo rinforzo del Cristian Barletta. È l'esperto portiere Giuseppe Di Ciaula. Carisma ed esplosività tra i pali sono i suoi punti di forza. Ha militato per diversi anni con il Modugno Calcio 5 tra Serie B e A2, poi la breve parentesi a Policoro in B e la scalata dalla terza alla seconda serie del futsal italiano con la Virtus, prima Rutigliano, poi diventata Noi Cattaro. I primi due tasselli dunque sono stati inseriti nel puzzle della prossima stagione. Altri, tra conferme e novità, verranno sistemati già nei prossimi giorni. Prematura al momento parlare di obiettivi, ma il Cristian dopo gli ottimi risultati conseguiti con i gradi di matricola, sesto posto in campionato e semifinale di Coppa Italia, sembra intenzionato a voler regadare altre soddisfazioni ai propri sostenitori.